Quando si è presentato negli uffici di Palmanova della Polstrada di Udine, gli agenti stentavano a credere al suo racconto. Ho ucciso una mia ragazza, ha raccontato ho il suo corpo in macchina. Entrambi i friulani, lui l'assassino Francesco Mazzega, 35 anni di Spilimbergo nel Pordenonese, lei 21 anni, Nadia Orlando e, meglio era, di Dignano. Avevano litigato qualche giorno prima e lui lunedì sera l'aveva raggiunta a casa convincendola a salire in auto per fare la pace. La ragazza appare sia morta per strangolamento poco dopo. Entrambi lavoravano alla Lima di San Daniele del Friuli, un'azienda specializzata in protesi ortopediche. I due erano attese a lavoro stamattina alle 9 ma non si sono presentati. Nadia Orlando abitava a Vidulis, frazione di Dignano. È stata uccisa nel corso della notte, dicevamo probabilmente strangolata, da Francesco Mazzega, residente prima a Muzzana del Turgnano, dove vivono ancora i suoi genitori, e poi a Spilimbergo. Nella serata di ieri i genitori della giovane vittima ne avevano denunciato la scomparsa alla stazione dei carabinieri della cittadina collinare. Sul posto si sono presentate immediatamente la PM Letizia Puppa e il vicequestore aggiunto Massimiliano Ortolana. L'episodio si sarebbe verificato nei dintorni di Dignano, ha dichiarato il funzionario di polizia, alla fine di una lite molto accesa tra i due. Dovrebbe esserci stato uno strangolamento con le mani, successivamente l'uomo avrebbe vagato per ore fino ad arrivare qui, alla sede della Polstrada Palmarina. Ora dovremmo approfondire meglio i fatti con gli interrogatori.